Un minuto con Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Sala San Francesco, un po' si percepisce l'aria di Francescanesimo, non solo da questo bellissimo dipinto del maestro Ciccone, ma anche da questi totem che contornano un po' questo luogo della pastorale giovanile, dell'invito ai giovani di fare delle esperienze anche di natura vocazionale. L'invito può essere proprio diretto a Carmelo che ci ha scritto questa bellissima testimonianza, il racconto della sua conversione, della sua ricerca continua, dove Padre Pio è entrato nella sua vita e ha un po' stravolto tutto quello che stava accadendo di male, tra virgolette. Sono Carmelo, 22enne, la mia è una testimonianza di conversione proprio avvenuta attraverso l'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina e voglio condividerla con tanti, con tanti soprattutto giovani che guardano questo canale. Ero un ragazzo molto problematico che cercava un punto di riferimento da poter seguire, seguivo le mode, volevo tanto diventare come volevano gli altri, come purtroppo succede a tanti miei coetanei che sono molto deboli, si lasciano andare. Ero uno che si dichiarava alcune volte ateo, alcune volte credente, ovvero ero agnostico. Avevo dei compagni di cui alla fine si sono dimostrati molto deboli a causa di questa società materialista e molto competitiva che volevano che fossi proprio come loro. Andavo nelle discoteche solo perché volevo dimostrare di essere popolare, di essere come altri ragazzi che a causa delle illusioni pensano che questo sia lo stile di vita da seguire, uno stile fatto di uso di alcol, di fumo, di droga. Poi un giorno sentì parlare di Padre Pio da Pietrelcina, il suo nome mi entrò nella testa. Allora cominciai a cercare, a capire chi fosse. Ho cominciato a vedere i suoi film e poi anche le testimonianze, a volte testimonianze sul nostro canale Padre Pio TV. Cominciai così a studiarlo e soprattutto a chiedere la sua intercessione, pregare con lui. Dopo quel momento comincia effettivamente la mia conversione. Pian piano vidi tante verità, la falsità dei miei compagni, nei miei confronti, l'invidia, l'ipocrisia e tanto altro ancora. Un giorno mi hanno tradito di brutto, scrive Carmelo, mettendomi da parte. All'inizio è stata una vera e propria delusione, però poi ho capito che era una vera e propria benedizione, perché dopo questo fatto tornai veramente a praticare, a partecipare a messa, di cui pian piano poi, scrive Carmelo, diventai un ministrante, un esponente della Fushi e del gruppo di preghiera di Padre Pio. È già passato quasi un anno da quando sono tornato a servire il Signore. Ora uno degli scopi della mia vocazione è cercare di convertire molti percatori, altri giovani, che a causa delle illusioni prendono anche strade sbagliate, molto brutte, di cui a volte li portano anche a morire, non solo fisicamente, ma a morire dentro. Prego per loro e prego per le vocazioni religiose.